gentili telespettatori buona giornata forza italia chiama renzi renzi aiutaci a fare diventare silvio il presidente della repubblica e renzi dice ho tanti amici vecchi e nuovi dice berlusconi e dell'utri sarebbe incaricato di contattare il partito renziano o meglio proprio lui il batteo l'ex senatore di forza italia sull'ipotesi di un contatto con il leader di italia viva per spingere la candidatura di berlusconi per il quirinale silvio non è non correrebbe senza sperare di elezioni senza la speranza di essere eletto vede dice io ho tantissimi amici ho qualche amico vecchio che mi porto dietro dal passato e ho molti amici nuovi che hanno stima di me con tutti loro parlo di tantissime cose le più diverse tra loro e così interpellato sull'ipotesi che abbia parlato direttamente con matteo renzi di un tema delicato come la corsa di berlusconi alla presidenza della repubblica tra smentita e velata conferma lo dico e non lo dico ti dico di sì ma ti dico anche di no ti dico che berlusconi è molto vicino al quirinale però ti dico anche che non è vero ecco è un po un giochino del dico e non dico è così marcello dell'utri sceglie la strada che porta alla seconda berlusconi senz'altro il più noto dei vecchi amici rimasti renzi potrebbe essere uno dei nuovi e per quanto tutti e due escludano caricaticamente di essersi visti in presenza dal cavaliere dice una palla totale dice dell'utri magari ad arcore ci sono stato una volta nel 2009 come noto a tutti dice la versione di renzi pertanto quello che fa capire dell'utri che si sono assolutamente visti che dovrebbe esserci una sorta di accordo per il quirinale la domanda è perché renzi aiuterebbe berlusconi da quello che mi sono dall'idea che mi sono fatto io renzi non fa niente per nulla niente per niente cioè se lui fa qualcosa non lo fa gratuitamente e mi viene in mente una una mia esperienza personale ovviamente non in politica ma all'università ho chiesto a una persona che lavora all'università se poteva aiutarmi a fare una roba ma senza niente di strano poteva aiutarmi a farmi una roba e questa dice tu che cosa cosa proponi cosa offri per questo aiuto in cambio io ho detto ah insomma l'altruismo non esiste cioè io so che tu hai contatti con una persona se puoi vedere di farmi un piacere e tu subito mi dici io faccio una cosa ma devo avere in cambio qualcosa cosa proponi e lo ha detto questa persona in una maniera così naturale si vede che in famiglia gli hanno insegnato che non esiste fare un piacere a una persona perché un tuo collega un tuo amico conoscente no il piacere non esiste ma se fai qualsiasi cosa per qualcuno deve avere in cambio un tornaconto e così mi viene in mente renzi mia opinione personale che renzi non faccia niente senza un tornaconto che può essere personale o politico e così la tela che parte dall'ex numero uno di pub l'italia dell'utri arriva all'ex presidente del consiglio sembra il remake dell'asse su cui renziani attraverso denis verdini costruirono anni fa con berlusconi il patto del nazareno quindi berlusconi renzi già sono stati uniti certo che diciamo che un uomo potente come berlusconi ha tante ha tante chance per convincere le persone deve convincere un renzi con un partito al 2 per cento che non sa realmente dove cavolo girarsi perché dove va non può entrare nel pd sono ai ferri corti finisce la legislatura dove va col 2 per cento non può più entrare in politica viene tagliato fuori dalla politica per sempre o almeno per 5 anni quindi berlusconi deve convincere un potenziale mandato via dalla politica deve convincere uno stuolo decine decine o centinaia di grillini politici che sono vicini alla disoccupazione diciamo che secondo me berlusconi a terreno facile deve convincere di futuri disoccupati a votare per lui vota silvio vota silvio naturalmente berlusconi sa che non può chiedere il voto senza senza dare qualcosa in cambio non so che cosa ma si chiama uno sconosciuto grillino gli dice guardi io so che lei è nel gruppo misto fra un po è disoccupato non è che vota per me mi regala questo sogno di diventare presidente della repubblica e l'altro dirà ma guardi non so realmente devo pensare berlusconi che cosa potrà cosa potrà offrire a uno sconosciuto grillino in vista di disoccupazione uno degli uomini più potenti e ricchi del mondo le vie del signore sono infinite per quello che vi dico che berluscao meravigliao è molto vicino al quirinale per questo che nel pd hanno gli occhi sbarrati e non sanno più che cosa dire perché se realmente è così vicina questa elezione perché le renzi si è lasciato andare una riflessione ampia dice berlusconi proverà a fare il king il re ma a un certo punto potrebbe rendersi conto che il colpo che può riuscirgli è quello del king maker dice potrebbe fare il re ma potrebbe fare anche quello che decide chi è il re insomma renzi vede un ruolo decisamente primario di berlusconi in questa elezione però rimane rimangono un po le parole dell'ex senatore di forza italia dell'utri che fa capire che lui dice ho tanti amici vecchi e nuovi sto aiutando silviuccio caro berlusconi è mesi che si muove per essere eletto presidente della repubblica ed è l'unico che si muove in questo senso perché gli altri sono lì silenti vedremo grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata